Buon salve a tutti gente e benvenuti in un nuovo video quest'oggi in la mia squadra affronteremo la settimanale sfida degli anziani, la nonna precisamente e almeno questa volta penso di tralasciare il fatto che non vengano presentati e non avevano sponteggio considerando che ormai quei pochi che ci sono è come se avessero preso una rotazione settimanale alla pari delle challenge in ogni caso il monosponteggio della soddetta sfida è quello delle uccisioni precise pertanto link in descrizione di quella che è stata la prima sfida degli anziani per eventuali consigli per quanto riguarda i modificatori invece fate molta attenzione a non saltare troppo poiché con il modificatore atterrato riceverete danni maggiori detto questo buona visione totalmente improvvisato no ma sinceramente allora anche il modificatore non ho visto bene quali sono in volo ho visto in volo mi parte per visto volo atterrato quindi siamo noi che ricevano i suoi danni giusto? si ok atterrato e giocoliere giocoliere e atterrato ok 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 giustamente vabbè continuo a ribadire che Bungie ha una notevole fantasia quindi un bonus punteggio potrebbero fare anche colpi precisi anche colpi imprecisi ahah si è trollata beh però dai per variare questa io la chiamerei di grata la chiamerei di grata essere talmente pighe da non fare neanche colpi precisi a volte è difficile ricordarsi di non saltare perchè non si viene naturale in un certo momento però io sono abituato a The Division e mi dico perchè non posso mettermi dietro i dispari a genius ok ok oh ma ce l'ha con me ce l'ha con me mi vuole fare al forno adesso vede che sei buono eh infatti so buono eh lo so che so buono vede che per fare più punti cosa potremmo fare tipo io con la freccia la tiro e poi si ammazza neanche beh si one shot si giusto no si almeno di one shot perchè adesso che sottoclasse c'hai ragazzi guarda su qui ah ok no giù dico per dirlo io penso boh non è che magari questo è talmente so talmente so un'altra sottoclasse tanto la matanzante non la uso mai il pistoliere non mi piace funziona ah ok non è ancora maxato è l'unica sottoclasse che mi manca tra tutti i personi mamma mia i tuoi colpi della prima mamma mia che degrado quanto degrado i tuoi coltati mamma mia ah io sono morto vabbè dai sono morto se mi rianimate voi colpi ma che come si arriva 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 ma il cazzo che li hai calcio orco schifo dove cavolo muovi anche tu ma sai lo che sai ok ora c'ho un po' di colpi ok ok allora devi sfruttarli sti colpi utilizzarli metterli a frutto non so trovare altri sinonimi adatti utilizzarli è troppo difficile no non ne trovo e basta la cosa è diversa ok bella due qualche benassestati di spide demoniaca eh aspetta aspetta Fuby quanti lumenti sono rimasti dillo un po' alla gente di vita andate in campo aspetta vediamo ok devi caricarci dai 4.029 sono aumentati ah ok in ogni caso ragazzi eh nei commenti hashtag Fuby è povero beh non parliamo di te che sei uguale stai zitto bravo ragazzi ero ricco anch'io fino a quando non li studi sui tutti per le sintesi pesanti per farmi impatti esorici ero sempre a 25 mila fisi dai eh poi è arrivata la crisi sono arrivata le tasse vabbè come mi faccio il po' tesodico proprio quando il cacciatore sono a posto è arrivata le tasse tante cose belle ah se manco su Warfing veramente no basta basta riferimenti ad altri giochi per favore ora concentriamoci su Destiny che vuoi ne aggiungo altri ma si eh non non mi impressiono di nulla tranquillo eh si 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 ho parlato di God Simulator allora ok allora trovi un riferimento di God Simulator in relazione a Destiny a parte i bug eh volevi non c'è fisica e i bug volevi dire i bug non c'è fisica ok ho vinto io non c'è fisica guarda sto no sto perciò sotto e non può essere no non l'avrei mai detto guarda sei un cavolo di gente mi hai visto dove la trovi una persona così ti faccio promuovere col 6 ma che 6 e 6 ovviamente non è uscito colpite la primaria non c'è i cannoni portatili chi li capisce meglio? o seriamente? non troppa le munizioni è una cosa incredibile perchè è un giugoliere non cambia l'arma eh hai ragione mamma mia certamente perchè usare le altre armi troppa pigrizia no? beh cosa usa? il cecchino per un nemico a 2 metri? eh il fatto sta che le munizioni non deve troppa lo stesso ah sono anche rianimate ah cazzo che gente è bene ora ce l'ho bello vicino a quella falange bugata mi raccomando è sempre così pure si fanno saltare in aria si ma guarda anche di loro non mi impressiono più di nulla ma anche nei vecchi episodi ok allora dipende mi sa che mordo per quel motivo gli abbiamo tutto buffato gli abbiamo proprio buffato ok buffata dai penso che ha così sfiga no di più comunque dovrei rimettermi la granata muro di tuono muro di tuono muro di tuono mi piace si è una nuova tipologia di granate del cacciatore ce lo so ah ok allora è una limited edition che ho solo io talmente limited edition talmente limited edition talmente limited edition talmente limited edition ok ah disgraziato c'ha troppato troppa tiriamo le granate poi lagga pure l'ho preso all'alluce che bravo ragazzi povero alluce la falange non vedo tossine io vabbè l'ho tirata io si si ho notato ho notato che l'hai tirata tu no c'era un opzionico sopra un altro opzionico che stava volando ma che cazzo non sto scherzando ah che ti bad allora sto boss vuole muovere eh facciamo altri punti no sono altri nemici da 20 mila eh manco la precisa eh dai c'avevo 5 nemici davanti vabbè vabbè talmente si spazientisce proprio quando finiamo appunto eh giusto per quello vista la puntualità no anche quelli importanti in uno youtuber ritirata in camera di certi calibri che è stata sulla porta che non si ha così geniali per bellezza ci stavamo appoggiando alla porta perché eravamo stanchi devi capire certe nostre logiche io mi metto dietro la porta non te l'ho chiesto ok faccio un po' il corrotto intanto io un po' l'obbeso c'è un po' il corrotto adesso ah ma c'è il bravo ragazzo adesso il pilota dilaniato da qui allora quella granata è un operatore beh ti ho fatto del danno vuoi mettere perché gli hai in pratica ha messo un brufolo se guardi gli manca un po' di vita è vero mamma mia allora scusa questo che è stato utile ok ragazzi però qua ci sta un overdose di vandali io ho fatto un fail con la freccia incredibile vabbè qualcuno l'è incatenato non lo mostriamo molto ma si no dai in parte è utile a parte ho fatto una sfera di luce mi sento forte ma no a parte quello ci sono un bordello di vandali qua con le lame di trazzata a parte su dei colpi della primaria primi che vedi di questa partita ok ah si 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 stiletti che non li fanno fare ma basta che li ha messi col colpo a colpo fai più buoni guardiano a terra ah giusto c'è a terra mi sono messo a saltare ecco cosa ho detto eh se ti attiro di riuscivo ma si vuoi? vuoi delle botte? vuoi botte? ah ho lasciato one shot ok allora ma ecco si anche quelle piccole granate che la faccio disgraziato no no abbastanza male si fanno abbastanza male fanno generare la maggior parte dei fail tipo quello che ha fatto difendere si era goofy anche però mi che era riferita a lui no sei in pratica sembra quasi fatta a porta dove sta il boss? eccolo l'hai chiamato eh dice che dovevamo fare 40.000 punti e hai già morto incredibile e anche 30.000 ole ma iniziamoci viva le speedrun e io muoio ecco hai provato hai provato quello che io ho provato nella mia prima prigione degli anziani del re di corrotti cosa si prova ai guardo? va bene ah ok sarà riferito ok se guardate le morti abbiamo fatto 4 3 2 manca farla apposta quanto siamo disgraziati va bene va bene now it's time to droppare vediamo i drop aspetta se non ti da niente a me mi da per il resto del reietto quasi sicuro allora vabbè si drop ovviamente sempre trascurabili altamente trascurabili dalla dubbio utilità come dico sempre eh droppami qualcosa su forza dai brutto disgraziato e signore dei lupi dai a 3 34 drop nella media migliori della norma migliori della media non so come metterla ce la posso fare mio italiano è high level va bene in ogni caso drop migliori della media parli meglio inglese va bene ragazzuoli in ogni caso adesso è tempo di salutare salutate bastardi e se non ci voglio eh niente buon salve tu non saluti perchè sei una sociale e buon salve a tutti gente buon salve buon salve